No, la cioccolata no, se ti aumenti il colesterolo mi va in ipertensione e ti trema la mano. Ma cosa hai fatto in faccia? Ma è una nuova maschera di bellezza, rimuova le cellule morte. Se tu mi avessi lasciato fare il parrucchiere, a quest'ora avrei avuto il mio bel salone di bellezza e la maschera te la facevo io. Grande, se tu avessi fatto il parrucchiere, a quest'ora saremmo in mezzo a una strada, strozzati dalle tasse. E poi, amore, hai così tanto talento, tu sei nato con la pistola in mano. Io tosto, Leon, ricordati che oggi pomeriggio alle quattro, devi far fuori questo. Mamma, questo l'ho già fatto fuori. Leon, non sparare così da vicino come hai fatto l'altra volta, che poi il sangue non va via più. Ciao, mamma. Leon, ma cosa fai? Lo uccide a mani nude. Prego, la mamma mi farai morire. Sono un chirurgo di fama mondiale. E lo stesso! Grazie a tutti.